Buongiorno a tutti, avverto che se non vi sono obiezioni la pulizia dei lavori dell'istituto di Erna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sull'Abtvide a Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ringrazio personalmente della presenza, il Ministro accompagnato dal Dottor Francesco Comparone, Vice Capo di Gabinetto e della Dottoressa Valentina Noce, segretaria particolare. Ricordo che l'istituto di Erna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta la partecipazione del remoto dei componenti della Commissione. Avverto inoltre il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto scenografico e che se lo riterrà opportuno, consentendo alla Commissione, i lavori potranno proseguire in istituta segreta. Segnalo che, in tal caso, per la parte di istituta sottoposta al regime di secretezza, saranno sospesi tutti i collegamenti del remoto e la trasmissione diretta sull'Abtvide della Camera dei Deputati, che saranno tempestivamente riattivati alla ripresa della seduta libera, al fine di assicurare il miglior svolgimento dei lavori. Invito inoltre il nostro ospite a destinare, se possibile, illustrazioni di eventuali contenuti riservati alla parte finale della seduta. L'audizione odierna rientra nell'ambito di un programma di audizione istituzionale deliberato dall'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, che mira ad approfondire questioni di carattere generale sulle materie oggetto di inchiesta e il senso della legge istituttiva della Commissione. In particolare, la Commissione è chiamata a svolgere indagini atti a far luce sulle attività illecite e connessa al ciclo dei rifiuti, oltre che con riguardo al ruolo svolto della criminalità organizzata e all'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica, ovvero da parti, soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti. La Commissione intende inoltre acquisire elementi di conoscenza utili ad individuare eventuali connessioni tra tali comportamenti illeciti e altre attività economiche. In tale contesto, nell'ambito dell'attività di inchiesta avviata, la Commissione verifica altresì l'eventuale sussistenza di attività illecite relativa alla gestione dei servizi di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti da parti di soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo anche ai sistemi di affidamento dei citati servizi, nonché allo stato di attività di bonifica dei siti risultati inquinanti. La Commissione ha inoltre il compito di verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale nei propri ambiti di indagine, anche con riferimento all'applicazione delle disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Da ultimo, ricordo che in forza della legge istitutiva della Commissione, che ne ha ampliato la fattispecie oggetto di indagine, rientrano nell'inchiesta avviata quelle attività illecite perpetrate nel settore agricolo e agroalimentare, anche connesse a forme di criminalità organizzata, commesse attraverso sofisticazione, contraffazioni di prodotti gastronomici, di dedichettature e di marchi di tutela, compreso il traffico illecito, anche trasfrontaliero dei prodotti con marchi made in Italy, contraffatti o alterati. Cedo dunque la parola al Signor Ministro per lo svolgimento della sua relazione introduttiva, al termine della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste dichiarimento. La ringrazio e prego. Sono io che ringrazio voi per l'invito, Signor Presidente, onorevoli membri della Commissione. Sono particolarmente lieto di svolgere questa audizione all'interno del consueto ciclo istituzionale e programmatico che ha già coinvolto gli altri Ministri, assieme ai quali, al pari dei quali, assicuro fin d'ora la mia personale collaborazione e quella di tutte le articolazioni del mio Ministero, con l'auspicio che possano essere proficue e incontrare anche l'apprezzamento dei deputati che ne sono componenti. Sono anche lieto di dare un contributo in un settore come quello delle inchieste parlamentari, in cui ho già operato, ahimè, vent'anni fa e oltre, come consulente di altre commissioni, a cominciare da quelle del terrorismo e le stragi, successivamente a quelle della mafia e so quanto sia importante la funzione di queste commissioni. Fa anche piacere da Veneto ricordare che questo è un palazzo particolarmente legato alla storia di Venezia, perché qui ebbe luogo il processo a Galileo Galilei, che era stato protetto dalla libertà della Repubblica Veneta e poi qui è stato invece, come sapete, diciamo così, vessato dall'inquisizione. Fortunatamente i tempi sono cambiati, però è una singolarità che questa commissione si riunisca in un palazzo così storico. Tutte, ripeto, a parte, è essenziale la collaborazione tra queste istituzioni e l'arricchimento che deriva dallo scambio di esperienze personali, come tra l'altro sa il Presidente Onorevole Morrone, che durante il primo dei governi della scorsa legislatura ha ricoperto la carica di sottosegretario presso il Ministero, che io ora ho l'onore di dirigere. Rilevo anche con piacere che questa autorevole commissione d'inchiesta si avvia a celebrare il trentesimo anniversario della sua prima istituzione come commissione monocamerale della sola Camera, nella ormai lontana legislatura, dodicesima legislatura. E prendo atto con favore che dal 1995 si sono progressivamente ampliati i compiti di questa commissione, che inizialmente erano limitati all'indagine sulle attività illecite collegate al settore dei rifiuti. Ora l'attitudine dei compiti si è estesa fino a comprendere tutti gli altri illeciti ambientali, compresi da questa legislatura, anche quelli per lo smaltimento dei rifiuti cosiddetti emergenti, delle energie rinnovabili e soprattutto gli illeciti del settore agricolo e agroalimentare. Questa mi sembra che sia un'apprezzabile iniziativa del legislatore. La progressiva ricostituzione della commissione lungo l'arco di questa legislatura testimonia questo perdurante interesse politico-istituzionale in questa materia che supera le contingenze degli interventi legislativi. Questa stabilizzazione della commissione la rende quindi un vero foro parlamentare della materia con una competenza specialistica rafforzata, e qui ci tengo a dirlo, dai poteri attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione. E quindi ne fa un punto di riferimento e di convergenza per tutti i soggetti istituzionali e non che operano nel settore oggetto dell'inchiesta parlamentare. Quindi anche la collaborazione tra l'istituzione ministeriale che rappresento sarà stabile e continuativa nella legislatura in corso, in linea con la disponibilità già offerta dagli altri colleghi, come ho detto, sia con i contributi forniti dai miei predecessori ministri della giustizia, da ultimo il collega Bonafede nel 2019 all'avvio di ogni nuova legislatura. Oggi mi soffermerò su alcuni aspetti salienti delle politiche legislative nazionali ed europee in materia ambientale, soprattutto in quelle recenti e come vedremo per la parte europea sono addirittura recentissimi, risalgono proprio a pochissimi giorni fa. Naturalmente fin d'ora la mia disponibilità a rispondere a tutte le domande e le osservazioni che farete, se possibile oggi tenuti anche conto di tempi, se necessario o opportuno in una seduta successiva con una riserva che farei oggi o per iscritto o anche sempre manifestando la mia assoluta disponibilità in modo orale, rinnovando, ripeto, questa mia presenza. L'assetto normativo nazionale è contenuto in varie fonti che voi conoscete, ma sarà bene anche ricordarle. Una è la legge fondamentale del 68 del 2015 e mi limito qui a ricordare al riguardo quanto è avvenuto in tempi recenti nel corso della corrente legislatura in cui la disciplina interna è stata interessata dagli interventi recanti con il decreto legge 105 del 2023, convertito nella legge 9 ottobre del 2023, e gli interventi contenuti nella decretazione di urgenza hanno interessato per un verso il testo unico in materia ambientale e per un altro il codice penale. Questa seconda parte è, per certi aspetti potete anche capire, vista la mia esperienza di 40 anni di Pubblico Ministero alla Procura della Repubblica, la materia che mi sta più a cuore. Vorrei dire che noi siamo stati, in un certo senso, anche accusati di panpenalizzazione, cioè di aver introdotto anche nuovi reati. Come vedremo, parte di questi sono anche determinati dalle direttive europee, ma soprattutto, secondo me, sono determinati dalla necessità di colmare dei vuoti di tutela nei confronti di un bene protetto come quello dell'ambiente, nei cui confronti, qualche volta purtroppo, bisogna anche ricorrere alla sanzione penale. Tenuto conto che nel nostro arsenale repressivo non è costituito soltanto delle sanzioni penali e in particolare soltanto della reclusione, ma anche da misure alternative, vedremo poi alcune in seguito, e anche della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, come sapete, la famosa legge 231. L'intervento del codice penale, innanzitutto, abbiamo trasformato in reato contravvenzionale. Sapete, le contravenzioni non sono quelle elevate del vigile della strada. Contravenzione è un reato assieme al delitto. L'abbiamo elevato, appunto, a livello di reato, seppure contravenzionale, l'illecito amministrativo della condotta dell'abbandono e del deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo realizzata anche dal semplice cittadino. Poi l'intervento penale ha interessato l'articolo 452 bis, in particolare attraverso l'ampliamento del trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente, l'estensione della tutela offerta dalla fattispecie di incendio boschivo, di cui è l'articolo 403 bis, magari Donina Valti vi risparmierò il riferimento al numero del codice penale, anche nelle zone di interfaccia urbano-rurali, e infine attraverso l'estensione dell'ambito di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, questa è molto importante, della cosiddetta confisca allargata, che era già prevista dal 240 bis, in caso di condanna o applicazione della pena ai sensi del cosiddetto patteggiamento per i soli reati di disastro ambientale e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Ora è stata ampliata le fattispecie di inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del diritto di inquinamento ambientale, qui è bene citarli, gli articoli 452 ter del codice penale, significa che sono stati proprio inseriti in un blocco primitivo, che era l'articolo 453, sono stati inseriti questi commi, è brutto leggere bis, ter, quater, quinquies, octies, purtroppo la tecnica legislativa è questa, ma cosa sta a dimostrare? Sta a dimostrare che all'interno di un nocciolo duro, di un tronco di reato, si innestano sempre dei nuovi rami che vogliono coprire questi vuoti di tutela in materie particolarmente sensibili e importanti come quelli della tutela dell'ambiente. Vi è il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e ovviamente l'associazione delinque era diretta alla commissione dei reati precedenti. Nell'ambito nazionale rilevo quindi che l'assemblea della Camera ha recentemente concluso, a inizio del 2024, l'esame di un articolato progetto di legge di iniziativa parlamentare, il primo firmatario è l'onorevole Caffiero Darao, in materia di illeciti agroalimentari. Questo ha avuto delle varie vicende, sapete non ha avuto un esito felice, però a riguardo senza invadere quelle che sono le prerogative esquisitamente parlamentari, mi limito a formulare l'auspicio che per il futuro si possano trovare anche in questa materia delle forme di convergenza, delle forme di accordo, delle forme di, vogliamo dire, oltre al dialogo anche proprio un qualcosa di condiviso come è accaduto in altri settori dove è difficile essere in disaccordo come il bullismo, come la violenza sulle donne e come è stato l'equo compenso. Ecco, in questo auspicio credo che sia in questo momento anche utile ricordare, sicuro brevemente, quelli che sono gli interventi normativi in sede europea in materia di tutela dell'ambiente, perché c'è una direttiva che ha, diciamo così, imposto ai vari Paesi membri questa tutela penale come forma anche di deterrenza verso, diciamo di dissuasione più che di deterrenza verso questi comportamenti così perniciosi. Va detto però che a fronte di questa direttiva europea noi avevamo già anticipato la tutela nel nostro ordinamento penale. Quindi, fermo restando che adesso daremo piena attuazione, la nostra legislazione era già molto avanzata in questo settore. Questa direttiva europea sostituisce le precedenti, la 2008 del 99 e la 2923, ed è stata adottata all'esito di questo complesso negoziato finito negli anni 2022-2023 a seguito della presentazione da parte della Commissione il 15 dicembre del 2021. Vi risparmio quello che era stato il percorso, diciamo, normativo. Mi limito a illustrare i principali contenuti, rinviando a successive occasioni ulteriori approfondimenti anche in vista dell'iter per il recepimento dell'ordinamento nazionale che ovviamente interesserà il Governo e il Parlamento, tenuto presente appunto che la nostra legislazione è già molto avanzata rispetto agli aspetti standard che ci sono imposti o caldamente consigliati dall'Europa. Diciamo che l'atto in questione sostituisce quello europeo, costituisce la Presidente direttiva ormai datata 15 anni fa, l'articolo 1, vale la pena di leggerlo, norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione. Ecco, qui vi è un un elenco di un'ampia serie di condotte che se compiute intenzionalmente o quantomeno con colpa grave, gli stati membri sono tenuti a incriminare, cioè la direttiva europea ci dice voi stati, come sapete la direttiva europea non si rivolge direttamente al cittadino, si rivolge allo Stato, dice tu Stato devi configurare per queste condotte l'ipotesi appunto di reato, che sia reato delitto, sia reato contravenzionale, poi spetta al legislatore nazionale decidono, ma pur sempre come reato. Secondo la formula che è tradizionale ed è vincolante, che la sanzione deve essere effettiva, deve essere proporzionale e deve essere dissuasiva. Questi sono i tre indirizzi della sanzione penale. Aggiungo da modesto giurista che se questi sono gli indirizzi le caratteristiche della norma penale devono comunque essere quelli della tipicità, della specificità, quindi deve essere l'ipotesi ben delineata nella condotta, nell'evento e nel nesso di causalità tra la condotta e l'evento, laddove l'evento sia elemento strutturale del reato, perché come sapete vi sono anche dei reati di semplice condotta o addirittura di condotta omissiva, cioè non fare quello che si dovrebbe fare. Significativa rispetto alle precedenti posizioni del legislatore europeo è la più analitica ed esauriente classificazione appunto di questi reati, con l'inserimento di nuovi settori della criminalità ambientale, con la definizione di tipi e livelli di sanzioni applicabili all'ente, in particolare quelle pecuniarie. Quando si dice sanzioni applicabili all'ente si riferisce a quella responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dalla legge 231 che è formalmente una responsabilità amministrativa, però come molti di voi sapranno è sostanzialmente una responsabilità penale, non fosse altro perché viene accertata nelle stesse forme, negli stessi modi della responsabilità penale attraverso l'intervento della magistratura penale eccetera. Anche se in ossequio al principio societas delinquere non potest, cioè non si può applicare la sanzione penale a una società perché la responsabilità penale è personale, si è dato questo nome di responsabilità amministrativa, però se non è zuppa è pambagnato. Le sanzioni amministrative, le sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive della 231 sono estremamente pesanti, talvolta anche più pesanti della sanzione penale che molto spesso viene sottoposta alla sospensione condizionale della pena, mentre invece quelle della 231 sono applicate immediatamente e molto spesso, io ho avuto anche l'occasione di applicarle durante le ultime indagini sulla corruzione di Venezia, quelle del Mose, vi assicuro che sono molto ma molto più afflittive anche di certe pene che riguardano invece la limitazione della libertà personale. Questa nuova e arricchita catalogazione dei reati ambientali tiene dunque conto di una serie variegata di condotte illecite e dei danni provocati attraverso svariati veicoli come l'introduzione illegale nell'ambiente di varie forme di energia, l'immissione sul mercato di prodotti il cui impiego su vasta scala possa comportare lo scarico e l'immissione di una quantità di materiali, sostanze ed energie nocive per l'ambiente e la salute umana, trasporto, raccolta e trattamento illegale di rifiuti che possano provocare effetti devastanti per l'ambiente. In particolare appare significativo, soprattutto per il compito di questa commissione di inchiesta, il grande rilievo che viene attribuito dalla direttiva ai reati ambientali in forma associativa, laddove si accerti ovviamente il coinvolgimento di gruppi di criminalità organizzati. Anche qui vorrei aggiungere un'osservazione anche di ordine personale e professionale di ex magistrato. Oggi la criminalità organizzata tende a veicolare la propria attività illecita in varie articolazioni, che non sono soltanto più quelle di una volta, ma riguardano vari tipi di crimini, dal traffico di esseri umani fino in questi casi ai reati ambientali, ai reati della cosiddetta eco-mafia e a tutta una serie di attività che poi culminano nel riciclaggio e nel reimpiego di questi beni in altre tante attività illegali. Quindi è proprio un circolo esponenziale di attività illecite che alimentano se stesse attraverso questi profitti illeciti. Sono tutte attività concatenate che fanno capo delle organizzazioni criminali nazionali e, ahimè, purtroppo anche straniere. Aggiungo, per pura incidenza ma sicuramente mi interessa, che nel G7 che abbiamo terminato a Venezia sabato scorso, dopo due giorni di proficui lavori, abbiamo posto tantissima attenzione ai reati ambientali e siamo giunti anche qui alle conclusioni che ho espresso adesso che i gruppi di criminalità organizzata si stanno orientando anche verso queste forme di reati che, sembra di no, ma voi lo sapete meglio di tutti gli altri cittadini italiani, in realtà sono molto proficui, sono fonte di profitti illeciti estremamente importanti che poi, ripeto, vengono investiti e reinvestiti attraverso il money laundering e il riciclaggio in altre forme di attività criminose. Nel complesso, quindi, può dirsi che la direttiva appena approvata punta ad armonizzare le legislazioni penale ambientali degli Stati membri alla luce di un microsistema compiuto, rispetto al quale occorrerà valutare la corrispondenza dell'impianto italiano di tutela e le ricadute post-recepimento. Ho già detto e lo ripeto ancora che comunque il nostro sistema è già molto avanzato e aveva previsto e prevenuto questa direttiva europea. Il ricepimento quindi di questa direttiva 2014-1203 comporterà comunque un ulteriore impegno del legislatore nel garantire i livelli di tutela ancora più efficienti ed efficaci. E questa direttiva avrà delle ricadute che comunque dovrà tener conto dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, oltre che dell'armonizzazione della previsione normativa delle fattispecie penali. Anche qui, se mi è consentito una breve riflessione da modesto giurista e da, ahimè, anziano esperto di crimini e misfatti, che per quanto sia importante, necessaria, utile e in questi casi anche imposta la sanzione penale, è un'illusione pensare che la tutela penale, la sanzione, la pena, chiamiamola come volete, sia sufficiente ad un effetto dissuasivo per eliminare queste condotte. E in ogni caso, quando interviene la sanzione penale, il misfatto è già stato compiuto. Come diceva Manzoni, se prendi uno schiaffo, neanche il Papa te lo può togliere. Quindi la nostra attività, non solo in questo ambito, ma soprattutto in questo ambito, visto che ne va dell'ambiente, della salute pubblica, che oramai sono tra l'altro due gemelli siamesi che vanno di comune accordo, quello che è importante è prevenire più ancora che reprimere. Cioè, quando il reatto è stato commesso, lo Stato ha già fallito perché il suo compito sarebbe quello di impedire il delitto. Certo, la punizione serve perché una volta che lo Stato ha minacciato una sanzione, se non l'applicasse perderebbe completamente autorevolezza e autorità. Ma, ripeto, sia in questo che in altri settori, direi in tutti i settori, laddove la sanzione penale sia necessaria o addirittura richiesta dalle direttive europee, è illusorio pensare che da sola funzioni. Funziona soltanto se vi è ovviamente a monte una educazione civica al rispetto dell'ambiente, così come deve esserci al rispetto dei diritti altrui, al rispetto della donna e in tutte quelle cose di cui abbiamo già ampiamente dibattuto qui e in Parlamento. Però, concetto fondamentale, che non dobbiamo illudersi che la sanzione penale, in quanto tale, possa essere sufficiente a eliminare questi rischi perniciosi. E in questo settore, ecco, mi avvio a concludere, è importante il potenziamento delle sanzioni accessorie, tenendo anche conto della complementarietà in questa materia del diritto penale e del diritto amministrativo per affrontare questi tipi diversi di condotta criminale in modo diverso e proporzionato. E anche l'introduzione di sanzioni afflittive che siano alternative rispetto alla reclusione. Anche qui non dobbiamo pensare che ogni volta che viene istituita una norma penale si debba pensare necessariamente alle manette, alle catene, alle sbarre. La reclusione è una sorta di unità di misura della sanzione penale, ma può e secondo me deve, soprattutto per certi tipi di reati, essere integrata o addirittura sostituita da misure alternative della pena, che molto spesso non solo devono tendere alla rieducazione del condannato, perché questo è scritto dalla Costituzione e diciamo ubbidisce anche un imperativo etico, ma soprattutto perché molto spesso queste sanzioni sono più efficaci di quelle, ho detto prima, della reclusione che ci riporta ai tempi di Galileo. E quindi sotto questi aspetti il recepimento della direttiva potrebbe anche essere una ulteriore materia di riflessione, anche, e qui aggiungo un ulteriore flash, che però sarà e dovrà essere approfondito sulla competenza a trattare di questi reati, perché vi è una vexata question se debbano essere accentrati presso le procure distrettuali o presso le procure circondariali. È un discorso che coinvolge tutta una serie di modifiche del codice di procedura penale, tenuto conto che nella Costituzione il principio del forum delictico commissi, cioè del luogo in cui è stato commesso il reato, è un principio non negoziabile, anche se per certi aspetti come accade per altri tipi di crimini, la competenza dell'indagine può essere a livello distrettuale e molto spesso è utile che questo avvenga. In altri settori può essere invece un dispendio di energia. Per finire, una nota di colore, per fare giustizia occorrono magistrati. Siamo al 15% sotto l'organico della magistratura. Su 10.000, anzi 500 e passa magistrati previsti dall'organico, ne abbiamo in servizio 9.000, forse un po' meno. Abbiamo fatto i calcoli anche dei prossimi pensionamenti, però siamo in grado di assicurare, un po' perché anche qui, come si dice, se lo chiede l'Europa, un po' perché per fortuna in questo settore i soldi ci sono perché sono messi a bilancio nell'organico e un po' perché è giusto, doveroso fare così, noi per la prima volta, praticamente da sempre, quantomeno da quando sono entrato io in magistratura, ahimè, quasi mezzo secolo fa, verrà colmato l'organico. Sono in corso ben tre concorsi, scusate il bisticcio, per 400 posti ciascuno di magistrato, altri due sono più che imminenti, quindi noi contiamo di avere 1.700 magistrati aggiuntivi entro il 2026. Tenuto conto, ripeto, anche dei pensionamenti così, noi ci avvicineremo al completamento degli organici. Allora, in conclusione, noi ci proponiamo un finale sistema di monitoraggio di rilevazione, cioè monitoraggio di rilevazione presso i vari uffici giudiziari di, a fini ovviamente statistici, noi non possiamo, come sapete, entrare minimamente nel merito, ne vorremmo farlo nelle varie inchieste, ma a fini statistici monitorare qual è il numero, quale sia il numero e i titoli di reato delle indagini in corso o delle indagini compiute. Abbiamo delle statistiche abbastanza aggiornate, a breve arriveranno quelle aggiornatissime perché sono dati che non sempre sono trasmessi dagli singoli uffici in modo rapido ed omogeneo. Comunque questo monitoraggio sarà finalizzato a questa ricognizione. Ha di tutte le fattispecie incriminatrici e circostanziali, quindi l'inquinamento ambientale, le norme o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, appunto il disastro ambientale, i delitti colposi contro l'ambiente, il traffico e abbandono di materie e altre radioattività, quelli che ho detto prima. Poi la ricognizione delle principali fattispecie incriminati quali delitti e quelle incriminati quali contravvenzioni, secondo la distinzione che ho fatto prima. E infine del meccanismo di definizione amministrativa degli illeciti contravvenzionali di natura formale che sono stati introdotti con la legge del 2006. Cosa significa? Significa che per cui i reati puramente formali che non incidono negativamente sul bene protetto, quindi non provocano un danno, ma sono sintomi quantomeno di disattenzione, di imprudenza, imperizia, senza che a questo consegua un evento dannoso, altrimenti avremmo ovviamente il reato seppure a titolo colposo. In questi casi la sanzione amministrativa, quindi non penale, è spesso più efficace. All'esito di questo monitoraggio vengono predisposte ogni anno del mese di giugno delle tabelle che sono pubblicate nel sito del Ministero e che saranno accessibili. Abbiamo, ripeto, qui quelle relative al 2022, i dati relativi al 2023 sono in corso di acquisizione e sarà comunque il mio compito trasmettere alla Commissione, non appena disponibile, il report aggiornato. Grazie della vostra attenzione. Ringrazio il Ministro per la sua relazione. Adesso ci sono un quarto d'ora e venti minuti per gli interventi. Dopo il Ministro mi ha detto che deve andare, quindi lo ringraziamo già per la sua disponibilità, però ha dato comunque la disponibilità di rispondere per iscritto oppure di tornare in un secondo momento. Quindi io raccoglierei le domande e poi dopo provvedremo a rispondere. Simiani. Grazie Presidente. Ringrazio il Ministro per la sua relazione. Io vorrei soffermarmi su due punti importanti della sua relazione. Uno, la prevenzione, e qui vorrei fare due domande Ministro, me le sono segnate. Come possono i cittadini contribuire nella prevenzione alla segnalazione dei reati ambientali? Perché uno dei temi veri è proprio quello di riuscire a determinare non solo una coscienza ma delle azioni. Secondo, sempre invece per le imprese, quali sono le misure preventive che le aziende possano adottare per evitare di commettere reati ambientali? Perché mi è piaciuto molto questo passaggio che li ha fatto citando anche Manzoni, perché credo che nel momento in cui ci sono delle responsabilità è logico, noi dobbiamo pensare a prevenire. Lo Stato fallisce quando si è commesso già il reato. E l'ultima cosa, noi stiamo facendo una serie di indagini con questa commissione e credo che la priorità vera è quella dello sversamento dei rifiuti e il traffico dei rifiuti che oggi avviene nella nostra penisola. A tutto tondo. Ecco, io credo che su questo, ecco, volevo sapere l'intenzione anche del Ministero su questo tema, perché noi abbiamo visto un grande sforzo delle forze dell'ordine. Ci piacerebbe che su questo spunto ci fosse anche uno sforzo politico del Governo, perché credo che su questo tema molto ci giocherà anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Grazie Semiani, mi ha chiesto la parola Borrelli. Grazie Presidente, spero che si veda. Scusate Presidente. Sì, 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 ti vediamo molto bene. Grazie Presidente, grazie Ministro per l'intervento. Ho fatto tre domande rapide. La prima, quando abbiamo fatto i sopralluoghi con la commissione nella terra dei fuochi, a domanda nostra specifica quanti arresti erano stati fatti per reati ambientali nella terra dei fuochi dal prefetto di Caserta, c'è stato risposto uno in tre anni, se ricordo bene. La domanda è quale contrasto ci potrà mai essere se alla fine non c'è nessuno che paga materialmente su questa vicenda. Due, mi risulta che dopo domani ci sarà una manifestazione, lei ha parlato delle questioni delle carceri, della polizia penitenziaria, perché la situazione è insostenibile e all'interno delle carceri, ovviamente non riguarda specificamente la nostra commissione, però lei ha fatto pensione e io le segnalo che mi risulta che martedì c'è una manifestazione sotto al Ministero di tutte le sigle sindacali della polizia penitenziaria. La terza e ultima questione che le voglio segnalare è la ringrazio per come è intervenuto celermente sulla vicenda vergognosa del caso Pellini, che lei si ricorderà, io le ho segnalato più volte quando ci siamo incontrati in aula e che anche altri colleghi hanno segnalato anche facendo interrogazioni e question time. La domanda è, quella vicenda di cui eravamo a conoscenza, perché sapevamo dove stava arrivando, è una ferita aperta? Lei ha mandato gli ispettori, è già in grado di darci qualche ulteriore elemento su una vicenda che ovviamente non è sua responsabilità, ma che è di giustizia vera per le vittime della terra dei fuochi. Ho completato, grazie. Grazie, Auriemma. Grazie Presidente, io ringrazio il Ministro e vorrei sottoporle due questioni. La prima riguarda quello che sta emergendo dalle audizioni in commissione, che il traffico di illeciti, oltre a spostarsi in alcune zone dell'Italia, si sposta soprattutto all'estero. Abbiamo sentito delle audizioni importanti dove sono coinvolti anche i consorsi che sono costituiti ex legge. Su questo aspetto, la parte internazionale, quindi questo aspetto innovativo rispetto al fenomeno che è sempre stato pensato, circoscritto in alcune aree dell'Italia, ma invece in realtà sta prendendo dimensioni internazionali. Qual è la sua posizione? Perché noi abbiamo visto un grande sforzo delle forze dell'ordine, della dogana, ma tuttavia la normativa non sembra adeguata, soprattutto perché riguarda anche paesi che non vengono toccati dalla normativa europea. La seconda questione la poteva anche già il collega, rispetto al dissequestro Pellini, dove noi ci siamo già confrontati. Io la ringrazio per anche la condivisione di sconcerto che abbiamo avuto rispetto a questa vicenda, che credo che sia fondamentale. Lei ha parlato di pene alternative, perché oltre alla questione estremamente vergognosa di questo ritorno dei beni a soggetti che erano condannati con sentenza passata in giudicato, la beffa di tutto questo è che a distanza di vent'anni c'è questo aspetto dell'inquinamento dovuto ai traffici illeciti e ai disversamenti che però è rimasto lì. Quindi pensare, quando lei parla di pene alternative rispetto al carcere, che possono essere più efficaci e possono anche essere più forse finalizzate all'obiettivo. Una misura alternativa che prevede però anche la possibilità che nell'iter giudiziario lunghissimo, abbiamo parlato di quasi vent'anni, si metta mano però anche con l'ausilio delle procure, perché poi il problema dell'inquinamento di quel procedimento lì è che i rilievi dell'ISPRA non seguono i rilievi delle procure che sono intervenute, che invece però hanno sondato materialmente e direttamente tutto l'inquinamento. Quindi pensare una pena alternativa che comprenda appunto la possibilità che si intervenga subito e non si attenda invece o un'azione risarcitoria civile che tra l'altro ha tempi biblici e soprattutto non si attenda i tempi lunghissimi ai medi della giustizia. Uno spunto di riflessione che possiamo condividere insieme. Grazie. Iaia. Buongiorno signor Ministro, grazie per l'esauriente relazione. Lei ha parlato e noi condividiamo di prevenzione. Io le voglio fare una domanda che attiene al ciclo dei rifiuti e alla considerazione che soprattutto nel meridione d'Italia e anche nel centro Italia, devo dire, difficilmente si riesce a chiudere il ciclo dei rifiuti, nel senso che purtroppo i rifiuti terminano il loro iter e la loro vita nelle discariche. Tutto questo comporta un dispendio importante nei confronti dei comuni e nei confronti soprattutto delle imprese, perché scaricare, depositare, portare, smaltire il rifiuto in discarica ha un costo importante nei confronti delle imprese, per cui questo costo chiaramente diventa un problema per l'impresa e diventa una situazione nella quale la criminalità organizzata soprattutto ha facilità di insinuarsi, perché chiaramente se l'imprenditore, soprattutto l'imprenditore in difficoltà, ha la possibilità di smaltire in maniera quasi sicura, tra virgolette, questi rifiuti ad un prezzo dimezzato o più che dimezzato rispetto alla discarica, ovviamente è tentato da fare questo e tutto questo contesto agevola la criminalità organizzata e le associazioni che operano in questo ambito. Quindi io le chiedo, lei ritiene che maggiori investimenti dal punto di vista ambientale, dal punto di vista tecnologico, quindi della realizzazione di impianti che attengano sia allo smaltimento di materiali riciclabili, che agli stessi termovalorizzatori, quindi realizzazione di impianti che consentano lo smaltimento e la produzione anche di energia nel contempo, possa essere una misura efficace di contrasto nei confronti della criminalità organizzata? Grazie. Grazie, l'ultimo intervento, Cangiano. Ho capito, chiedo scusa, chiedo scusa. Ok, ok, perfetto, chiedo scusa. Voi, tra l'altro, dovete andare, quindi cercherò di essere... 20 minuti, devo rifarcelo. Prima domanda, come possono contribuire i cittadini alla segnalazione dei reati? Allora, fermo restando che ogni segnalazione deve essere ovviamente sottoscritta da chi la fa. La denuncia anonima è indegna di una civiltà giuridica, lo insegna il famoso riscritto di Traiano a Plinio nella persecuzione dei cristiani, non andarli a cercare, se li trovano devono essere puliti, ma non dare mai seguito alle denunce anonime perché sono indegne del diritto romano. Parliamo di duemila anni fa. Quindi, prima cosa, la segnalazione. Secondo, educazione civica. Ci sono dei paesi in Europa, non dico quali, dove il cittadino si sente responsabilizzato a segnalare una violazione di legge, anche un'automobile parcheggiata in modo irregolare perché lo ritiene un vulnus al corretto vivere civile degli altri. Da noi, molto spesso, anche se la denuncia non è anonima, ripeto, ma è sottoscritta, questa forma di collaborazione diventa una sorta di spiata, una sorta di delazione. Ecco, questa è una questione culturale. Quindi, se io dovessi rispondere, dovrei dire che è una questione culturale. Quando il cittadino si rende racconto che segnalare all'ufficio delle imposte che il suo coinquilino, o il suo dilimpetaio, meglio, viaggia su una Ferrari, fa le vacanze all'estero cinque volte all'anno e denuncia però 500 euro al mese, beh, vuol dire che qualcosa non torna. Quello non è una spia, non è un delettore. In molti paesi dell'Europa quello è considerato un collaboratore dell'equità fiscale, perché l'evasore fiscale non è considerato un furbo, ma è considerato un ladro, come in realtà è. Ecco, quindi questa è la mia risposta. L'educazione e ovviamente il rispetto delle procedure. Misure preventive delle aziende. Qui posso essere più circostanziato. Allora, la 231, come sapete, non è obbligatoria nei confronti delle aziende. Nel senso che se un'azienda non predispone i modelli di comportamento e l'organismo di vigilanza, non succede nulla. Però se viene commesso un reato nell'interesse o avvantaggio dell'azienda, allora scatta la responsabilità amministrativa. Questa responsabilità però può essere evitata se l'azienda istituisce i modelli di comportamento e l'organismo di vigilanza sulla corretta attuazione di questo modello. Ecco, noi possiamo e dobbiamo prendere esempio da questo. Proprio perché la 231 è estesa alla responsabilità delle aziende per quanto riguarda i reati ambientali, la risposta è molto semplice. Cioè è conveniente addirittura direi per l'impresa quella di investire sia nel modello per evitare questi tipi di reati, sia nell'organismo di vigilanza che, come dice la parola, vigili sulla corretta attuazione di questo modello. Quindi direi che il quadro, la cornice c'è già. La migliore, diciamo, ecco la più efficace possibilità delle aziende di prevenire questi tipi di reati è proprio quella di adottare, come dice la 231 che ormai risale a vent'anni fa, questo modello con un organismo di controllo. Faccio presente da ultimo che questo organismo di controllo deve essere, dice la legge, dotato di autonomia e indipendenza anche finanziaria. Cioè l'organismo all'Odv che controlla l'attuazione del modello non deve essere una cosa, diciamo così, formale e campata per aria. Deve agire efficacemente e anche attraverso persone che vengono retribuite per fare questo, il che è anche una garanzia maggiore di indipendenza. Per quanto poi riguarda il traffico di rifiuti, qui sono state fatte varie osservazioni che possono essere, come dice la Cassazione, esaminate in un modo congiunto. Allora, avete già visto la direttiva, ho già dato lettura, sia pure in modo molto sintetico della direttiva europea. Vorrei segnalare che con il consenso, e me ne ralleggo di tutti, la tutela dell'ambiente è stata inserita nella Costituzione. La Costituzione oggi parifica, come sapete, l'avete fatta voi, ce l'abbiamo fatta tutti insieme, quindi l'inserimento di questa tutela è stato elevato al rango di principio costituzionale. Questo consente anche tutta un'altra serie di estensione delle eventuali ipotesi criminose, oltre a quelle che ci sono state suggerite o imposte dall'Unione Europea. Aggiungo che, anche qui ho una considerazione di ordine generale, che vale anche in questo settore, la tecnologia, non parliamo adesso dell'intelligenza artificiale, che secondo me potrà essere applicata anche a questo settore, ma ci vorrebbe una sessione intera soltanto per discutere di questo, l'abbiamo discusso ampiamente al G7, creerà tutta una serie di problemi che noi però potremo anche convertire in opportunità, perché l'intelligenza artificiale può essere una cosa brutta, ma anche è una cosa molto buona, e la tecnologia e la fantasia delle organizzazioni criminali, soprattutto quelle ormai anche transnazionali, viaggia molto più veloce delle leggi. Quindi molto spesso noi dobbiamo lavorare, noi di fantasia, per prevedere quali possano eggere le condotte delittuose di queste organizzazioni, anche attraverso la disponibilità che hanno e avranno dei nuovi strumenti, perché quando arriva il legislatore, ripeto, e il danno è già stato fatto, poiché sapete che la legge penale non può avere efficacia retroattiva, sì, arriviamo in ritardo. Quindi c'è già molto, l'Europa ci consiglia di fare anche di più, in realtà, ripeto, siamo all'avanguardia in Europa, ma non è mai abbastanza, bisogna secondo me lavorare, ripeto, ma non solo in questo settore, ma in tutti i settori, proprio con la fantasia, perché ci sono dei reati che vengono meno e dei reati invece che sorgono. Per esempio, tanto per farvi un'idea, visto che ancora qualche minuto, anche per far capire magari a chi non ha esperienza diretta di diritto penale, ci sono dei reati che una volta erano, diciamo così, estesissimi, che stanno scomparendo, ma non solo il terrorismo, io ho fatto l'indagine sulle Brigate Rosse nell'82, quindi potete immaginare cosa ho visto, i sequestri di persona, io ho fatto l'indagine negli anni Ottanta, i sequestri di persona sono quasi scomparsi, perché? Perché sono anti-economici, sequestrare una persona non rende, rende molto di più prendere una barca con 500 migranti a 5.000 euro l'uno e guadagni molto, perché il modo migliore per combattere i crimini è quello di renderlo improduttivo. Le rapine a mano armata in banca stanno diminuendo in modo esponenziale, perché? Perché in banca non ci sono più soldi, non c'è più cash, essendo tutto dematerializzato, non è conveniente per il bandito entrare col fazzoletto sul viso, il mitra spianato e magari rischiare oltre a vent'anni di galera se ti prendono anche una mitragliata, non lo so, della polizia che interviene. Ecco, alcuni reati diminuiscono, quasi a scomparire, altri emergono. La tecnologia e la fantasia delle organizzazioni, che sono sempre maggiormente munite di disponibilità finanziarie, deve eccitare anche la nostra fantasia per arrivare con una legislazione già preparati quando la fantasia perversa dell'organizzazione criminale avrà attuato questo tipo di reato che può essere sanzionato soltanto se in quel momento c'è una norma vigente, proprio perché, lo ripetiamo per l'ennesima volta, è visto il principio della irretroattività della sanzione penale. Per quanto riguarda la terra dei fuochi, allora qui, sì, pochi arresti, tanti arresti e voi sapete che questa è competenza esclusiva della magistratura. Le leggi ci sono, sarebbe un sacrilegio se io qui criticassi, io per la magistratura ho appartenuto a 40 anni, ho soltanto parole di elogio per come lavorano, per quanto lavorano. Posso dirlo chiaramente, io sono stato critico e lo sono, tante cose nei confronti della magistratura, di alcuni magistrati, ma mai mi sono sognato di dire che lavorino poco, anzi, qualche volta lavorano anche troppo con delle indagini che magari si potrebbero non fare. Quindi l'impegno della magistratura è assoluto, è costante in queste cose, però è insindacabile da parte nostra. Quindi che gli arresti siano tanti, che siano pochi, che siano adeguati, non lo siano, il Ministro della Giustizia non può e non deve pronunciarsi su questo. C'è una manifestazione della Polizia Penitenziaria, ecco, io non credo che questo sia il luogo in cui possiamo discutere dei disagi, peraltro noti a tutti, della Polizia Penitenziaria. Posso solo assicurare che per noi, soprattutto per me, che sono il numero uno del Ministero, è un problema, non dico angosciante, ma sicuramente un'assoluta priorità. Ovviamente riceveremo, terremo conto, abbiamo già fatto vari incontri con le organizzazioni sindacali, ma ripeto, è un argomento che non credo sia opportuno trattare qui oggi. Così come quello della vicenda Pellini. Lì, voi sapete, la legge vincola il Ministero e il segreto su tutta quella che è l'attività che può essere, tra virgolette, ispettiva. Posso assicurare, l'ho già detto al Parlamento, che noi ci siamo attivati subito, immediatamente, per fare quello che la legge ci impone e l'opportunità ci consiglia e ci consigliava di fare e stiamo procedendo secondo quelle che sono le norme di legge. Più di questo non posso dire perché sarebbe una violazione di un segreto al quale siamo tenuti, ripeto, per legge. Mi avvio alla conclusione. Allora, per quanto riguarda, ah sì, traffici illeciti nei rapporti con l'estero. Allora, guardate, la direttiva europea dovrebbe servire proprio a questo. perché, l'ho già detto e lo ripeto, non solo in questo settore, prendiamo il settore degli stupefacenti che è forse ancora quello più lacerante, avrete letto in questi giorni le polemiche, il problema del fentanyl. Guardate, l'America ha avuto 60.000 morti in un anno per il fentanyl, più della guerra nel Vietnam, in un anno. Quindi, e perché lo dico? Perché queste droghe, questo sistema di concentrazione della delinquenza organizzata attraverso i trasporti, quindi anche i trasporti va e vieni dei rifiuti, ormai si sono internazionalizzati. Gli stessi porti italiani che una volta erano i destinatari, diciamo, per elezione anche dei traffici di stupefacenti, adesso sono diventati secondari. Noi sappiamo che il trasferimento è avvenuto soprattutto verso i porti del nord. Tant'è vero che, e questo viene a, diciamo, riconoscimento nostro, vostro, anche delle legislature precedenti e della magistratura, ci hanno riconosciuto nei vari incontri, non solo del G7, ma anche in quelli bilaterali, che noi abbiamo una delle legislazioni più avanzate nella lotta contro il crimine transnazionale. Ce l'hanno proprio riconosciuto, ripeto, questo va alla nostra gratitudine alla direzione nazionale antimafia, alla magistratura che l'opera, ripeto, anche ai governi e alle legislature precedenti, perché questa normativa non è nata ieri, è nata sul martirio di Falcone e di Borsellino in una serie di sedimentazioni normative che gli altri stanno copiando. Ecco, per questo lo dico, perché io ho avuto per esempio vari incontri con sia i ministri sia gli ambasciatori in molti paesi del nord, a cominciare dall'Olanda, e ecco, loro per esempio si sono trovati impreparati, perché non erano abituati ad avere la mafia in casa, e adesso si sono accorti di averla. E la mafia che controllava e controlla gli stupefacenti è la stessa che controllava, controlla e controllerà il traffico illecito di rifiuti. Quindi bisogna alzare la guardia soprattutto nella collaborazione internazionale, sia a livello di polizia, sia a livello di prevenzione, sia anche a livello di collaborazione giudiziaria. Per la collaborazione giudiziaria noi abbiamo innanzitutto i magistrati di collegamento con gli altri stati che funzionano molto bene anche con l'Unione Europea. A questo proposito aggiungo una cosa che non ho detto prima, che stiamo assumendo 1.700 magistrati, ma stiamo anche potenziando presso la Scuola Superiore della Magistratura, che come sapete è l'organo di formazione ma anche di aggiornamento dei magistrati, una particolare sensibilità dei magistrati, soprattutto dei più giovani, verso questo tipo di crimine. Anche qui, continuo a dire, si evolvono i crimini. Una volta alla Scuola della Magistratura si insegnavano esattamente le procedure per certi tipi di reati. Penso ovviamente al terrorismo nero e rosso, ma penso ai sequestri di persone ai miei tempi, quando io ero proprio all'inizio della carriera, oggi noi dobbiamo orientarci sulla criminalità informatica, su quella che sarà l'intelligenza artificiale e su quelli che sono i reati ambientali. Faccio presente che sono tutti connessi, perché oggi con la tecnologia tu riesci a fare delle cose che una volta non avresti nemmeno immaginato. Quando dicevo prima che la rapina a mano armata è sparita, o comunque sparita non sparirà mai, ma comunque è molto diminuita, è perché oggi schiacciando un bottone, se tu sei immaginabile, svuoti il conto corrente di una persona e senza neanche rischiare tanto ottieni quel profitto che una volta ottenevi con una banda di dieci banditi che andavano appunto a rapinare un istituto. Ecco, quindi la nostra attenzione, la collaborazione transnazionale anche tra le forze di polizia e di magistratura e la formazione dei nuovi magistrati in questo settore. non vorrei avere saltato delle cose per quanto riguarda il costo delle imprese sulla prevenzione. Allora, questo ovviamente non è materia esclusiva e direi neanche principale del Ministero della Giustizia, però ovviamente è una cosa di cui dobbiamo tenere conto. Io credo che sia necessario, ecco in questo caso, quello che si dice un tavolo tecnico, già ce ne sono molti, alcuni magari sono superati, altri si potrebbero fare per i vari dicasteri interessati per capire come si possano anche qui rendere utile il rispetto della legge. Io ho una convinzione molto profonda da sempre, da quando ho iniziato la carriera di magistrato, che il rispetto delle regole alla fine non sia soltanto doveroso eticamente, giuridicamente, ma sia utile proprio per noi, che sia conveniente. Noi dobbiamo rendere il rispetto delle regole conveniente per chi le rispetta, perché guardate, al di là delle belle parole, delle prediche, serve l'esempio, ma serve anche la consapevolezza che se ognuno, per esempio, facesse nel suo piccolo il proprio dovere, avrebbe in cambio, in restituzione da parte di tutti i cittadini quella piccola parte di dovere che gli altri devono adempiere. Per cui il postino che getta in acqua la posta perché vuole andare a bersi lo sprizio nel mio Veneto, crede di essere un furbo, e invece un imbecille oltre a essere un cattivo postino, perché nel momento in cui arrivasse in stazione, troverebbe, se tutti si comportassero come lui, il treno che arriva in ritardo perché il postazione è andato al bar, nel momento in cui andasse all'ospedale l'infermiere sarebbe lontano perché sarebbe andato via con la fidanzata, eccetera, eccetera. Quindi, per una furbata che fa lui, se tutti si comportassero come lui, vivrebbe male, tutti viveremo male. A contraris, se ognuno di noi facesse il suo dovere, alla fine avremmo in cambio l'utilità collettiva, cioè la nostra collettività. Andremo all'ospedale, troveremo il medico dove stare, l'ufficio postale è lo stesso, il treno arriva in orario. Qual è quindi la conclusione? Noi dobbiamo cercare, direi così come per combattere il crimine dobbiamo cercare di renderlo improduttivo, anche se devono restare le sanzioni penali, altrimenti io sarei stato sempre disoccupato. Altrettanto, occorre che si renda, diciamo, entri nella nostra convinzione l'idea che il rispetto delle regole è utile. Se poi noi possiamo farlo attraverso agevolazioni fiscali, normative che diminuiscano, per esempio, vari tipi di contribuzioni da parte delle aziende che si attivano per una maggiore tutela dell'ambiente, questo io spero auspico che si possa fare, ma è questione, ripeto, che dovrà essere governata e soprattutto discussa tra i vari ministeri competenti. Siamo puntualissimi, io ringrazio il Ministro per la disponibilità per la relazione e poi penso che ci siano altre domande e quindi dichiaro conclusa l'audizione. Grazie ancora.